Massimiliano Allegri a 69 e la Juventus a 90 gradi, così rischia di finire questo campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi parleremo della sentenza che ha fatto molto molto discutere sia gli Juventini per quanto riguarda il patteggiamento o accordo, che dir si voglia, con la FGC, sia da parte degli anti-Juventini che stanno rosicando al pensiero che la Juventus non vada in Serie B. Se ancora non sei iscritto al canale, come sempre ti invito a guardare qualche video precedente prima di iscriverti. Guarda i contenuti se ti piacciono e allora ti iscrivi, attiva la campanellina perché è molto importante per quanto riguarda i contenuti futuri che arriveranno solo così. Ti potranno arrivare le notifiche. Condividi questo video, facciamo sentire agli anti-Juventini la nostra parziale goduria. Perché è vero che siamo totalmente infuriati per il patteggiamento della Juventus, ma una cosa ci fa godere. Ci fa godere la faccia degli interisti, milanisti, tutti gli anti-Juventini al pensiero che la Juventus in Serie B non ci andrà. Mentre loro addirittura parlavano di una radiazione della Juve. Quindi per questo devi condividere il video e facciamo schiattare qualche fegato. Commenta qua sotto dopo aver ascoltato quello che ho da dire, dimmi il tuo pensiero. È molto importante, io vi leggo tutti, cerco di leggervi tutti, naturalmente siete tanti, quindi portate pazienza. Un ringraziamento naturalmente va a tutti gli abbonati al canale che crescono continuamente. Vi ringrazio di cuore per il sostegno che mi date e grazie a tutti voi. Cominciamo con il vero e proprio contenuto del video. Perché Massimiliano Allegri si ferma a 69 punti. Abbiamo ancora una partita contro l'Udinese, ma abbiamo visto già contro l'Empoli e contro il Milan ha ciccato due ottime occasioni per scavallare questo numero che è molto a cuore a Massimiliano Allegri. Che è arrivato lì, non si vuole schiattare più. E nonostante che abbiamo avuto 10 punti di penalizzazione, lui continua a ripetere questo 69 punti che ha fatto effettivamente sul campo. Ricordiamo questi punti che ha fatto sul campo perché poi parleremo di una piccola questione per quanto riguarda il Milan e la sentenza. Detto questo, la Juventus da questo campionato rischia di uscirne e ne esce. Intanto con le ossa rotte per quanto riguarda la questione dei media e della faccia che ha perso, per quello che abbiamo letto sui giornali in tutti questi mesi, accuse e non solo. La Juventus non si è mai difesa, non solo, arriva pure a patteggiare. Dicendo che noi siamo sicuri di non aver fatto niente, ma patteggiamo per il bene della Juventus e dei suoi investitori. Dopodiché, dopo il patteggiamento, il titolo in borsa è salito vertiginosamente. Quindi è stata una mossa da parte di John Elkan che ha portato poi i suoi frutti. Come io vi ho detto più volte nei miei video, questi sono affaristi, businessmen, non sono tifosi. Non c'entrano niente con l'avvocato Agnelli che metteva in primis la Juventus e poi dopo i soldi. Infatti sappiamo che nel testamento, ammesso che avrebbe dato la Juventus a patto che nessuno la vendesse. Infatti mi sembra che sia scritto nel testamento, la Juventus non deve essere venduta, deve rimanere nelle mani della famiglia Agnelli o Elkan che dissi voglia, sempre la stessa cos'è. Detto questo, è normale che la Juventus ne esce a 90 gradi perché non puoi fare un accordo o un patteggiamento quando tu sei sicuro di avere ragione, soprattutto perché due dei dieci punti che ti sono stati dati come penalizzazione sono stati accreditati ad un uomo che si chiama Arriva Bene che ha la Juventus da pochi mesi e che nell'anno in cui si è preso in esame le plusvalenze lui non c'era. Quindi non può aver preso, non possono avergli dato dei punti di penalizzazione a carico suo perché lui non c'era. E questo già era uno degli ottimi motivi per non accettare questo tipo di patteggiamento in questa maniera. Volevi patteggiare? Mi dai tre punti di penalizzazione come è successo al Chievo per quanto riguarda i quattro anni consecutivi di falso in bilancio, di dichiarazione false perché faceva plusvalenze ma non fittizie, plusvalenze che non esistevano per potersi iscrivere al campionato. Nonostante ciò ha preso tre punti di penalizzazione, è un'ammenda ed è andato in Serie B perché era ultima in classifica. Non come dice Ziliani ridate la Serie A al Chievo perché non hanno mandato in Serie B la Juve. Il Chievo era andato in campo in Serie B, in più gli hanno dato tre punti di penalizzazione, alla Juventus invece dieci. A quando risale la prima prescrizione, la prima prescrizione rientra in quel di Milano per quanto riguarda il Milan e l'Inter quando ci fu la stessa situazione. Cioè plusvalenze fittizie, tutte e due vennero a patteggiare poi, andarono a patteggiare e presero 90.000 euro di multa, nemmeno 100.000 euro, invece la Juventus c'è 718.000 più gli spiccioli giustamente che niente ci dobbiamo dare al postino, quindi anche mi sembra che siano 440 euro in più da aggiungere ai 718.000. In quel caso del Milan e dell'Inter una sola multa e non se ne parlò assolutamente sui giornali. Quindi per quanto riguarda la Juventus lo sentiremo ancora per giorni, giorni e giorni. Perché la Juventus esce ancora di più a 90 gradi? Perché con questa sentenza, con questo patteggiamento, con questi dieci punti, la Juventus arriva dietro al Milan. In questo momento invece senza la penalizzazione la Juventus si trova alla penultima partita a due punti di vantaggio dal Milan e quindi in Champions League. Chi è che viene favorito naturalmente da questa penalizzazione? Il Milan, infatti Pioli in una conferenza stampa dice e noi abbiamo raggiunto l'obiettivo Champions, quindi per noi questo è un anno buono. Ricordiamo che sul campo sarebbe stato un anno fallimentare per una squadra che l'anno prima vince il campionato e l'anno dopo non si qualifica nemmeno tra le prime 4 in Champions League. Non vince il campionato, non vince la Coppa Italia e non vince e non va nemmeno avanti in Champions League. Questo sarebbe stato un anno fallimentare per il Milan, invece tutto salvato perché si parla della Juventus. E ora, negli ultimi minuti del video, ci lasciate la nostra goduria personale. Perché? Perché tutti, già dall'inizio, dicevano che la Juventus per la questione plus valenza avrebbe preso 15 punti di penalizzazione ma il macigno più grande sarebbe arrivato per quanto riguarda il filone stipendi. E lì sicuramente arrivava chi diceva la radiazione, chi diceva la serie C, chi la serie B perché ci voleva bene e voleva rivederci in serie B. Il tutto si chiude con una multa per quanto riguarda il filone stipendi e i 10 punti di penalizzazione per quanto riguarda le plus valenze. Ricordiamo, due pesi e due misure perché a Milan e Inter non fu fatta questo tipo di penalizzazione. Però il tutto contornato con la cilieginia sopra la torta del divieto da parte della Juventus di andare al Tar. E quindi la Juventus deve accettare questo tipo di penalizzazione. Tutto si chiude qua. Gravina dice grande campionato, finalmente si ritorna con tutte le squadre alla pari, ma alla pari mica tanto caro Gravina perché la Juventus ne esce macellata. Ma noi godiamo perché la Juventus vi fa ancora una volta sclerare perché in serie B non si va anche se non è una cosa da godere. Godiamo naturalmente perché non andiamo in serie B, ma il patteggiamento è una cosa che secondo me, è un mio parere, non dovrebbe essere stato fatto. La Juventus doveva andare fino al Tar, doveva chiudere. Perché? Doveva chiudere qui la questione. Perché? Perché il Manchester City nel 2020 viene condannata dalla UEFA a saltare due anni di coppe europee, si rivolge al Tar e il Tar annulla il procedimento e il Manchester City gioca la Champions League in quei due anni lì. Quindi non è vero che il Tar non avrebbe potuto fare assolutamente niente. Queste erano dicerie che si dicevano per portare via l'idea e il pensiero dalla mente delle persone sane di mente che volevano arrivare fino a lì. E' convincere che l'unico sistema, l'unica maniera per poterne uscire tutti un pochettino puliti era quello di andare a un patteggiamento o ad un accordo. E così la Juventus ha fatto. Però questo non ci porta in serie B, ci porta il prossimo anno a ripartire a pari con tutte le altre. E quindi, caro mio, anti-Juventino, che ti eri fatto la gola al pensiero che la Juventus potesse andare in serie B e tu la vedevi giocare così con le squadre di minore importanza, ti è andata davvero male. L'hai presa in quel posto. Ma io ve l'avevo detto dall'inizio, anzi io pensavo che nemmeno questo tipo di sanzione avrebbe ricevuto la Juventus proprio perché i precedenti dicono che quello che è fatto la Juventus lo hanno fatto un po' tutte le squadre e non sono mai state penalizzate fino a questo punto qua. Per me, come ho detto prima, come ho detto nel video precedente, nel video di ieri, questo si tratta di un pagamento di un pizzo alla mafia. Cioè la Juventus fa accordi con la mafia perché questa FGC, se davvero avevano qualcosa in mano per poterti punire fino in fondo, non venivano a patteggiare. Sarebbero andati fino in fondo per mandarti in serie B, come è successo nel 2006. Il video finisce qui. Se siete arrivati fino a qua, siete dei supereroi, non vi rimane che condividere e commentare qua sotto con il vostro pensiero. Mettete un bel like e io vi saluto. Ciao! Ciao, aio!